Ben ritrovati in diretta a tutti i telespettatori delle fonti TV, siamo con il consueto appuntamento con Bucce di Banana e Voli d'Aquila, Civolone dei Geniali della Finanza e abbiamo in collegamento telefonico con noi Alberto Forchielli. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Ben ritrovato. Allora, sui social l'avevo promesso ai nostri telespettatori che ti avrebbero visto in veste assolutamente insolita e quindi andiamo prima con la sorpresa del video e poi lo commentiamo insieme. Grazie. Il mio figlio a Herpes, Roma brucia ma lascia che bruci. Siamo stati un grande impero ma c'è molto marcio a casa. Siamo guidati da un branco di scimmie alla barra, non ce la faremo mai contro i nuovi barbari. voglio bruciare tutte le cabine di regia, voglio bruciare le spending review, le analisi costi benefici, le procure che aprono fascicoli, progetti paese, locomotive Italia, i tesoretti, le sinergie, le commissioni d'inchiesta, anche i cuori oltre l'ostacolo devono bruciare, i protocolli d'intesa, le luci in fondo al tunnel, i presidenti di garanzia, i prestiti di ponte, dobbiamo bruciare tutti i simulacri di un passato rovinoso, solo così potremmo rinascere, con il mio figlio a Herpes. E dopo aver bruciato tutti i luoghi comuni del passato, adesso guardiamo al futuro. Mi raccomando ragazzi, non fidatevi di chi vi dice, vi parla di mini bot, dice che bisogna rifare il cambio, lira euro, tornare alla lira, impossessarsi delle riserve di Banca Italia, fare tutte queste cose strane. C'è solo un modo per ripartire, studiare di più, lavorare assieme è meglio. Abbiamo visto il video promo di Fuoco e Fiamme, il libro di Alberto Forchieri e Michele Mengoli, da un video realizzato da un'idea di Gigi De Donno e Michele Mengoli da Black Sheep Produzioni. Alberto, dove è nata questa idea di bruciare tutto, radere tutto al suolo? Beh, sono tanti anni che la covo. Tu sai che la mia, che ho sempre detto, io non credo che sia possibile costruire un'Italia nuova su quello che esiste, perché la legacy che abbiamo creato è pazzesca, la legacy di burocrazia, fancazismo, cattive abitudini. Io credo che l'Italia, se mai volesse, decidesse di ripartire, deve ripartire da zero e risettare tutto, per cui io anche sono sempre stato favorevole a quello che chiamo il grande botto. L'Italia ha sempre cambiato in peggio, in meglio, con grandi traumi, che fossero la fine della prima guerra mondiale o l'armistizio nel settembre del 1943. E se vogliamo veramente cambiare adesso, vogliamo veramente capire che tutto quello che abbiamo costruito, per la maggior parte ce lo dobbiamo lasciare dietro e cominciare a guardare avanti. Ecco, è difficile Alberto però trovare una persona che si prenda la responsabilità di fare il nerone della situazione. Sì, no, mi rendo conto che è molto paradossale tutto questo, però dobbiamo, sai, i comportamenti, l'eccesso di burocrazia, l'eccesso di garantismo, questo continuo a tornare sui classici, sul passato, sui giacimenti culturali, senza mai voler guardare avanti, il poco apprezzamento che c'è verso il progresso, la tecnologia, sono cose che ci penalizzano, capito? Questo piangerci ad osso per qualunque cosa succeda, questo invocare uno Stato che non esiste, sono atteggiamenti che sono mortali per noi. Certo, ci vuole un mazzo, capito? Che possa radere tutto al suolo. Ecco, un primo modo di procedere potrebbe essere bruciare il vecchio modo di pensare per stereotipi che tanto ti danno fastidio. Ah, io sai, il nostro linguaggio politichese usa almeno 140 stereotipi, che io ho elencato più volte, di cui tengo una lista che continua ad aggiornare. Guarda, è una roba, adesso se vuoi te ne leggo alcuni, capito? Chi c'è in cima alla lista? Quali sono quelli che sono in cima a questa lista? Oh, fare sistema, cabina di regia, spendere in più, gli immigrati ci pagheranno le pensioni, fidatevi dello Stato, siamo pieni di eccellenze, progetto paese, aprire un tavolo, locomotivi Italia, la politica non ci lasci sola, tavolo di concertazione, tesoretto, tutti a Bruxelles a battere i pugni sul tavolo, fare sinergia, protocollo di intesa, come sta la ricostruzione, faccio un passo indietro, prima gli italiani, facciamo rete, pannellino di cuo, coda, il turismo del nostro petrolio, l'interlocuzione con i nostri partner, mamma Lucia, papà Giuseppe, video shop, riempire le piazze, madre coraggio, il bel paese, scendere in campo, buttare il bambino con l'acqua sporca, lo stato dell'arte, discorso al mezzogiorno, stiamo rubando il futuro ai giovani, sono presenti in garanzia, presto ponte, sto facendo la mia squadra, ricorso al tarri, partire dalle periferie, la filiera, l'Italia ponte è gettata nel Mediterraneo, un chilometro zero, lo dobbiamo ai terremotati, radical chic, piattaforma comune, gli italiani fanno il lavoro, gli immigrati fanno il lavoro che gli danno, vogliono fare, il combinato di sposto, abbiamo un obbligo morale, hanno peso la nostra dignità, ne vuoi ancora? Se tutti pagassero le tasse pagherebbero meno, la nostra visione fiscale è la priorità, essere resilienti, super perizia, super procura, tutto super, la minsa futa, la manina, fate in fretta, costituete l'idea, il combinato di saggi, valorizzare le eccellenze no gastronomiche, sono serena, agganciare la ripresa, abbiamo aperto l'interlocuzione, non metteremo le mani in tasca agli italiani, il governo del cambiamento, ce lo chiede l'Europa, giacimenti culturali, giacimenti negocodromici, declinazione, declinare, accordo quadro, sviluppo e occupazione, assumisce le responsabilità, piattaforma programmatica, e vuoi ancora? Basta, basta Alberto, ma è una tipica… No, c'è ancora, c'è subito un vertice, sono l'avvocato di italiane, ripartire dalla base, non ci sposteremo da un millimetro, questo lo dice lei, i nostri ragazzi… Facendo parte della categoria di coloro che le inventano, te ne potrei suggerire anche altri… Sì, è capito, se tu leggi, tutto ruota intorno a queste 140 frasi del cazzo, che non significano nulla, capito? Ma non è un modo per semplificare una realtà che ormai è veramente più difficile da inquadrare? E quindi? Non freddo l'invenzione della BCE, non ci sarà patrimoniale, lotta all'evasione, taglio del culo, fiscal compact, le risorse ci sono, auspichiamo i migliori risultati, nel solco della libertà, i campioni europei e le nostre eccellenze, obiettivi spidanti, la trunta del paese… Non ce ne sono così tanti negli altri parti del mondo? Cosa? Dicono, è una peculiarità tutta italiana o anche nelle altre parti del mondo? Ma questo è un discorso da scimmia, questo è un roba tutto italiana. Gli anglosassoni vanno per neologismi però? Come? Gli anglosassoni vanno per neologismi? Sì, vanno per acronimi, comunque sono molto più spicci, tutta questa è uno del linguaggio più diretto, più compatto, la roba italiana non si riesce a leggere, non capisce neanche un italiano. Quindi radiamo al suolo tutti questi stereotipi e ripartiamo da dove? Sì, ripartiamo da zero, come siamo partiti in settembre 1943, l'Italia è distrutta e abbiamo fatto il miracolo economico, poi dopo i celtroni ci sono saltati sopra e hanno costruito un mostro. Andavamo via veloci anni 50, anni 60, poi dopo abbiamo deciso che bisognava andare così, abbiamo costruito uno Stato che sono diritti e niente dovere. Anche la crisi economica e finanziaria che c'è stata nel 2008 ha favorito la nascita e comunque il proliferarsi di questi stereotipi perché si è cercato di dare una spiegazione soprattutto di non rinnovare quello che è accaduto. Secondo te adesso in che momento stiamo vivendo e soprattutto come possiamo andare avanti? Ma adesso il momento è la fine, adesso siamo alla fine della ripresa e tra due anni dovrebbe incominciare un'altra importante recessione, per cui stiamo ancora ballando sull'orlo del precipizio, se ancora il brutto deve arrivare. Comunque io penso che noi grossomodo siamo ingessanti, per cui la spangheremo ancora per molti anni, poi naturalmente le strade diventeranno ancora sempre un pochino più brutte, le scuole sempre più fatiscenti, gli ospedali bisognerà ormai andare con i passi da casa, però ci trasciniamo ancora avanti, non sarà mai uno dei traumatici in Italia purtroppo, andremo avanti, la mia esperienza in Argentina quando arrivai 40 anni fa sembrava il disastro, perché il peggio che uscita non poteva andare, poi sono 40 anni che va sempre peggio, quello mi ha insegnato che non c'è mai il pavimento del peggio. Ecco due sono i punti su cui insisti spesso, il lavorare insieme, il creare appunto le partnership e i distretti, possiamo ripartire di là? Guarda, ci sono tre valori, uno è rubare di meno, l'altro è lavorare meglio, lavorare con passione, basta macchine e caffè, basta social durante il lavoro, basta chiacchiere, se lavorate, lavorate cazzo. Terzo, bisogna imparare a lavorare insieme, questo maledetto Paese, ognuno lavora per sé, appena uno crea qualcosa si crea il disfiglio interno, i nostri imprenditori piuttosto che essere mondiali vogliono fare i visconti per la scuola di provincia, bisogna cercare di essere bene individualisti e di creare qualcosa insieme, ma sai 150 anni di storia, pubblicando storia non è ancora successo, però questa solidarietà ci fu nella miseria alla fine della guerra, dobbiamo ritrovare questa solidarietà, questo darsi una mano, perché lavorare meglio è importante, lavorare di più anche, non rubare è certo che è importante, però capire che la forza dell'essere umano è la capacità di lavorare insieme ad altri esseri umani, questo è quello che abbiamo, che gli animali non hanno, è questo che ci ha permesso nel bene e nel male di dominare il mondo, però noi italiani non ce l'abbiamo questa qualità e dobbiamo trovarla, vuol dire solidarietà, però vuol dire doveri e poi magari vengono i diritti. Anche l'insistere di più su quello che è un po' il nostro patrimonio, anche di competenze tecnologiche. No, basta il patrimonio di competenze, se no tutti pensano di rifare il Colosseo, capito? No, basta il patrimonio di conoscenze, dobbiamo acquisire conoscenze nuove, dobbiamo andare verso il futuro, dobbiamo diventare più bravi nel software, dobbiamo diventare più bravi nell'ingegneria, dobbiamo diventare più bravi nella fisica, col patrimonio culturale, anche l'Egitto ha un gran patrimonio culturale, però è nella merda fino al collo, capito? Anche la Babilonia è un gran patrimonio culturale, basta questo patrimonio culturale, non perché non sia importante, ma perché ci impedisce di vivere tutto il resto che è più importante. Perdonami Alberto, non voglio ricadere negli stereotipi, però le eccellenze in Italia ce le abbiamo, però se il tessuto… Ma si, ma sono sempre le stesse, è sempre la Ferrari da 50 anni, è sempre la Piazza No, 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 io parlo dei giovani, parlo dei giovani, abbiamo dei giovani molto in gamba. Sono più o meno come i giovani degli altri, anzi un pochino più spessati, primo sono meno, secondo… Ma se non li fanno lavorare in Italia, ovviamente se ne devono andare dall'Italia. E appunto, però credimi, non sono tanti, sono schiduciati, spesso non hanno gli studi adeguati, sono molto viziati dai nonni e dalla mamma, per cui non pensiamo ad avere dei giovani straordinari. Quelli che vanno all'estero se la cavano, sono giovani ok, ma c'è molto da migliorare, come professionalità, come atteggiamento e come competenze. È inutile colarsi nel sogno di averti giovani e super, sono dei giovani ok che possono diventare molto meglio, ma sono proprio ok. Ecco, invece per quanto riguarda i paradigmi economico-finanziari, adesso stiamo vedendo anche lo spostamento da quella che è la globalizzazione che ha dominato i nostri mercati negli ultimi decenni verso un cambiamento verso il protezionismo e il nazionalismo, anche lì dobbiamo riformulare tutto il nostro modo di pensare. Ma sì, ma certo, ma sì, tutta sta storia, ah i mercati liberi, ma no, voglio dire, i mercati liberi vanno bene se tutti giocano in modo corretto, altrimenti ci vogliono azioni correttive, ok? Perché capito, per non avere i mercati liberi, perché domattina la borsa non deve cadere, lasciamo che alcuni attori e parole internazionali, tipo la Cina, facciano carne di porco. Invece non è vero, a volte i dati possono servire. Sai, ma adesso tutte le economie, oddio, liberi, liberi, questi sono dogmi, i dogmi non vanno mai bene, i teorici vanno bene, ma poi dopo servono i pratici, capito? Perché se tu parli con un economista, gli dici, allora i mercati liberi, ma come facciamo con la Cina? Eh beh, con la Cina, quando dominerà noi saremo nella merda, dopo i costi saranno così bassi che torneremo su, ma io non voglio arrivare a quella ricetta lì, capito? Io non voglio arrivare a distruggere l'Italia in modo che la gente ormai lavora per un dollaro, con il gruppo diventa meno cara dei cinesi e puoi riprendersi. È una medicina dura, a me tutto questo mondo dell'economia ha dominato la finanza, non mi va bene. Però la deriva dell'individualismo economico è che poi o stai con i cinesi o stai con gli Stati Uniti, quindi bisognerà scegliere, non si potrà più… Io veramente sto con i bolognesi e voglio molto bene l'Italia, io ti posso dire che questa adesione al liberalismo sfrenato non ci ha fatto bene, questo continuo, ho capito, fare tutto in nome dell'Europa, ci ha fatto bene fino a un certo punto. A me per esempio sui discorsi in migrazione non piace per niente la politica europea, se a volte ci siamo appiattiti su formule assolutamente cretine. Con senno di poi arrivo anche a dirti che noi in realtà avremmo fatto bene non entrare nell'Euro, perché saremmo falliti nel 2008, avremmo avuto il trauma allora. Forse saremmo rinati. E non poteva andare a colpa a nessuno, non alla BCE, non alla Germania e compagnia. È stata una droga l'Euro. Ok, però attenzione, non strumentalizzare queste parole Alberto, perché qualcuno poi potrebbe cogliere l'occasione per dire usciamo adesso dall'Euro, che sarebbe… No, adesso non si può uscire dall'Euro, però bisogna anche, capito, con questa storia di uno strumentalizzare in una gabbia, non puoi dire, di libero mercato no, e l'Euro non si può uscire, ma alla fine è tutto un dogma, capito? Io voglio anche essere più plastico intorno a questi dogma, capito? Io ho vissuto le privatizzazioni, ma è vero che sono state so, so. Vuoi sapere la verità? Certo, sempre. So, so. Perché è vero che i boiardi pubblici erano un disastro, ma poi sale in preditoria privata, si guarda come ha ridotto la team. Eh, però l'esempio poi è anche quello cinese, laddove invece il libero mercato non esiste e poi abbiamo visto come l'economia sta rallentando. Ma no, adesso, no, adesso, attenzione, che i cinesi si alzano una bella pezza dell'economia statale. Comunque sì, adesso è difficile tirarlo. Cioè, ci vuole un equilibrio tra privatizzazioni, statalizzazione, insomma, c'è sicuramente una via di mezzo. Sì, ecco, voglio dire, anche lì, no? È stato un dogma, capito? Potevamo essere un attimo più accorti. Te lo dico, ossia, se mi chiedi perché sono così arrabbiato con i dogma, con i luoghi comuni e è per questo, che ci hanno fatto fare degli errori. Quindi adesso bruciamo tutto e ripartiamo da zero? Ma sì, è chiaro che è una provocazione la mia, capito? Però non voglio ricadere negli stessi dogmi, non voglio andare a ripetere le stesse robe che tanto non si faranno mai, capito? Bisogna ripartire da alcuni valori semplici, però dallo svantellare quello che c'è ed alcuni valori semplici, c'è il valore del lavoro, della qualità del lavoro, dell'etica sul lavoro, dell'importanza di lavorare insieme. Ecco, un po' la nuova generazione subisce anche la zavorra del debito pubblico, cioè noi siamo nati pensando di avere sulle spalle tantissimo debito pubblico e dover lavorare prima per sanare quel debito pubblico. Non pensi che anche lì questa frustrazione enorme si riversa poi anche sulle nostre carriere? Eh lo so, ma io ho capito, quant'è che lo dico? Ma sai, ormai ci sono più pensionati che altro, i pensionati se vanno in piazza sono più dei giovani, dicono le pensioni non possono essere il banco ma di tutto il resto, per cui va bene, capito? I giovani vanno via. Era da dire, erano discorsi che si facevano 30 anni fa, che non potevamo, l'agente intelligente lo sapeva 30 anni fa e Andreatta lo diceva, cosa lasceremo ai nostri figli? Io dicevo, ma cosa dice? Era un ragazzo, ah l'ho visto adesso, anni 80, 30 anni fa mi diceva, porchieri, ma lei pensi cosa lasceremo ai nostri figli? Io l'ho a mio padre dico, beh, perché aveva ragione, porca proia. Bene Alberto, io devo chiudere, devo dare la pubblicità, però ti ringrazio perché spero che di aver lasciato almeno qualcuno con qualche dubbio e magari si ripenserà a quello che si potrà fare in futuro, sicuramente meglio e come dicevi tu, ma anche lavorare sulla solidarietà economica. È un invito a pensare fuori dagli schemi, sia a destra che a sinistra. Benissimo, Alberto grazie di essere stato con noi come sempre, appuntamento settimana prossima. Ciao Annalisa. Ciao, grazie. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con l'analisi fondamentale.